solita giornata orrenda perché è orrenda cioè piove che mamma mia però ho deciso che devo andare lo stesso in palestra sono già pronta aspetta che la bepi faccia la mangi ho dei capelli che sono una cosa schifosa ma non importa se cercherò di mettermi me li ha tagliati mamma mia che male vabbè e poi vado in palestra bordo la porto giù e poi vado in palestra mi sono presa tante di quella pioggia ma tanto di quel pioggia soprattutto al ritorno e vabbè lasciamo stare sono andata ho fatto un'oretta e un quarto oggi quindi buona e però ritorno sono uscite ci dico che quasi grandina vabbè poi sono tornata a casa mi sono fatta la dozza sempre peggio sti capelli la beppa sta chiedendo da mangiare perché io sono qui con il mio teuccio oggi al mandarino e allora ho smesso di studiare perché c'è no perché sono uno e un quarto e sono un po nella cacca sono parecchino la cacca per questo esame molto 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 nella cacca va bene non importa oddio quanto piove ancora dovrei uscire non so se ne ho mezza odio questo tempo lo odio cioè non ce la posso fare poi ho la paura di ammalarmi perché di solito con questo tempaccio qua io mi ammalo prima che ho vabbè avanzato il dranzetto di oggi passa col tonno fatta proprio male da me che non sono che non so cucinare ma questo è quello che sta a fare quindi oggi invece che passa topo dare passa col to no ed è già per me una cosa particolare nuova sono pagina 16 devo farne 300 entro oggi no dai non devo farne 300 sono 2,80 sono nella cacca ragazzi vabbè no sto scherzando non devo farle tutte oggi oggi e domani sì e poi devo cominciare a ripetere sì grande no vabbè sono un po' stanca in questi giorni ma lo dico in ogni vlog e me ne rendo conto che lo dico in ogni vlog ma è vero la mia vita è stancante è stressante mi rendo conto di questa cosa e vabbè oggi non sono neanche riuscito a farvi non so un mini tipo come ne chiamo io timelapse che non è un timelapse ma insomma lo sapete con la musichetta quindi adesso o mi metto a farlo mentre io studio volevo anche farlo tipo di Bologna eccetera ma non ho mai tempo mi piacerebbe uscire andare in un centro farvi un mini timelapse di Bologna vera però non riesco mai però volevo dirvi una cosa che forse 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 avevo una mezza idea di fare un incontro qui a Bologna e volevo farlo sicuramente di sabato e verso i primi di novembre potrebbe essere potrebbe essere una data il 7 novembre forse non vi dico nulla perché cioè no piano perché appunto non lo so devo sentire giammi eccetera comunque mi piacebbe tanto farlo ma appunto e poi volevo chiedervi se vi è piaciuto il video di About Julia che ho visto che cioè mi è piaciuto molto come cioè avevo ho fatto tipo mille visualizzazioni in un giorno anzi in mezza giornata cioè sono stata veramente contenta ecco questo adesso si è fermato tutto perché siamo no però cioè mi avete fatto dei mi avete scritto dei commenti veramente belli quindi sono molto contenta e poi volevo chiedervi se assolutamente avete qualche idea sul video che vorreste vedere la prossima settimana tada perché sì poi in realtà sarò full perché ho l'esame il 3 di novembre e quindi sarò un po' full però sì dai devo riuscire a farlo e tutti gli altri video riesco a farvi sia quello di martedì 20 che quello di martedì 27 e poi preverò a fare anche quello di martedì 3 anche se sarà durissimo però ce la posso fare magari non aspettatevi cose super super elaborate come questo video qui del del dei modi di studiare perché è stato un po' un lavoretto e invece mi piacerebbe tanto tanto fare un morning barra night routine e ci penso se avete voglia faccio un night un morning routine quello che vi piace di più da mettere per tipo il 20 e poi se avete idea di qualche video tag di qualche video che posso fare in modo breve diciamo per il 27 o il 30 mi piacerebbe anche fare qualche DIY ma devo avere un'idea per il DIY ne ho già allora sono piccolissimi DIY ne ho già in mente due però volevo fare il terzo e il terzo è difficile da trovare e no non mi viene un'altra idea cioè voglio fare tre piccoli perché un video con un studio DIY di questo tipo cioè uno mi dice ma no cioè è troppo breve perché sono veramente delle cavolate però secondo me utilissime e quindi sto cercando il terzo e magari vi faccio quello quindi DIY night o morning routine e quasi quasi vorrei farvi sia la night che la morning vabbè dovete chiedermele voi queste cose io non so mai che video farvi cioè me ne invento un po' cioè me ne invento però insomma ci provo e sparo ecco oppure mi avete chiesto anche la make up collection oppure potrei fare un video haul oppure potrei fare un video outfit no perché sta più vendo in questi giorni in una maniera pazzesca quindi assolutamente cioè oddio potrei anche forse farvi un video outfit ma dovrei andare a fare shopping no sto scherzando potrei anche farvelo vabbè insomma aspetto le vostre richieste e ora mi metto a studiare allora mi stavano prendendo sotto sto andando verso casa di Ande perché ho deciso che basta ho capito studiare ma non posso studiare tutta la vita quindi vado a cena fuori evviva e sto andando a prendere Ande io volevo andare a mangiare il sushi ma vabbè ha vinto questo posto in cui mi portano e vabbè oddio perché è tutto spoccato scusate ma ho l'ombrello non voglio che cioè sta piovendo e non voglio che la macchinetta prenda ovviamente l'acqua quindi sono troppo vicina ma scusatemi ok quindi vado a prendere Ande e poi vi facciamo vedere dove stiamo andando adesso devo chiudere anche così e mi sto anche fuori grazie 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 stiamo aspettando la Isa ah è partito già sì è partito stiamo aspettando Isa e Babe che tra poco vedrete anche voi e lo andiamo a mangiare dove andiamo a mangiare? andiamo all'Osteria dell'Orsa che è un ottimo come si manda? cucina tipica bolognese ovviamente ma c'è tortelline tagliatelle buonissime tagliatelle sì se mai capitate a Bologna andate all'Osteria dell'Orsa anche perché costa poco nel senso che è un posto da studenti però la qualità è ottima ci si appallano gli occhi mi dispiace tanto non piangere però e niente cos'altro dire siamo quasi stati investiti siamo quasi stati investiti vabbè da uno con la bicicletta e niente e io le sono rimasta lì così mezz'ora con la macchinetta in mano io prontamente sono fuggito da cavaliere no vedi le guardie da ottimo cavaliere ti ho difeso ti ho protetto io mi sono accorta non stato del tipo ma dobbiamo che tu non c'eri più va bene niente ci aggiorniamo tra poco venga allora abbiamo preso un litro di vino hai già partito? si è già partito io comincio sempre è già partito è già partito ma io parto subito presentiamo facciamo la presentazione abbiamo qui Issa abbiamo qui Martina prendiamoci Ben e Andrea mi conoscete ormai sono un arbitruire ormai le voglio c'è giù si vabbè non mi riprendo neanche perché basta adesso stiamo aspettando le lontanitelle rv stiamo aspettando queste in brodo e le crescentine ecco e per chi non è bolognese no io guardo quando si è vicino i camerieri non mi riprendevo capire se è roba nostra non è roba nostra quindi no dicevo arrivano queste crescentine perché chi non è bolognese insomma è importante conoscere no è già partito? fai solo vedere grazie allora queste sono le crescentine Giulia solleva la parte di sopra e anche con le mani allora salame dolce e grana questa e questa invece non lo so mortadella mortadella no e ah prosciutto crudo e davvero quindi gran fritto grandi calorie buon appetito buon appetito buon appetito diatella e ragù tortellini in brodo allora gli unici che prendono il dolce ahahahah ma che cos'è che ha mascarpone mascarpone dolce ricettolato amarese vabbè dai mangiate mangiate perchè io non ci sono più ahahah alla salute ahahah buono ahahah 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 se lo sono già pappati tutto adesso adesso vengo a farti compagnia peppa allora vado a nanna che sono esausta ma prima di andare a nanna saluto savanna che ci ha scritto questo tweet grazie cucciola anche se è un po' di tempo fa vi mando un mega bacio e ci vediamo al prossimo video grazie